ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video come avete già visto dalla intro oggi proviamo una nuova fotocamera e poche parole go big shop mi ha mandato questi pacchi e si tratta della nuova insta 360 one x 2 e questi accessori una fotocamera a 360 gradi un action cam oggi la proveremo insieme per chi fosse interessato la trovate su go big shop nel link in descrizione con il codice mattia insta 360 riceverete anche un codice sconto andiamo a provarla insieme benone siamo siamo venuti a provare la insta 360 in bici oggi siamo nella zona di santa marinella alta e c'è fede qui ci sono un po di buche la strada è un po frastagliata con il furgone un po difficile però dai oggi sarà un bel test proveremo varie inquadrature sulla bici vi farò vedere qualcosa siamo arrivati nel luogo prescelto e adesso andiamo a recuperare la nostra bici fede qui direttore artistico mia giant questa è la modalità 150 gradi cioè solo la fotocamera frontale ed è perfetta per i vlog si può scegliere se fotocamera frontale o fotocamera posteriore nei video dove c'è il parlato è perfetta è comoda da tenere in mano ed è comodissimo anche lo schermo che hai davanti in cui si può gestire tutte le modalità del video e soprattutto vedere dove si inquadra e ora metterò la videocamera nel casco faremo questa piccola discesa la metterò a 360 gradi e proveremo a vedere il risultato finale dal casco ora riprovo la stessa discesa con lo stesso supporto sul casco solamente cambio l'inclinazione lo metto più avanti che quindi la fotocamera riprenderà da qui e mi si vederà da un altro punto di vista ora proveremo il supporto da manubrio basta attaccare questa parte qui al manubrio stringere la vite attaccarci questa parte qui e stringere che ci permetterà di fare altre inquadrature basta avvitare la insta 360 che è semplicissima con la vite con il punto cieco qui sotto toglierà automaticamente il supporto del manubrio quindi nel video non risulterà e noi scendiamo con la nostra insta qui e vediamo cosa succede questo è quello che io sono riuscito a fare in un piccolissimo sentiero senza nessun salto né niente però solo una prova delle diverse inquadrature e questo è quello che è venuto fuori soltanto con due supporti e tre inquadrature diverse ora vi faccio vedere qualcosa di diverso però questa volta in moto ciao a tutti oggi siamo a fiano romano questa volta in moto oggi proveremo la insta 360 con i vari attacchi sulla moto abbiamo fatto una struttura prestigiosa sul parafango dietro per vedere da un inquadratura particolare e poi il supporto da manubrio che è come l'abbiamo usato nella bici oggi lo proveremo sulla moto vediamo cosa riusciamo a tirarne fuori ma sono sicuro che faremo delle riprese spettacolari e andiamo a provarla a 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 può a a a a Grazie a tutti. 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 Ebbene, abbiamo provato dunque la Insta360 anche in moto, già visto l'anteprima dallo schermo appunto qui, tanta tanta roba. E' impressionante cosa si può fare con questi 360 gradi. Adesso andiamo a vedere direttamente i video della Insta360 sull'applicazione da telefono. Vediamo come fare delle semplici modifiche. Accendiamo la Insta360, apriamo l'applicazione, entriamo, possiamo vedere cosa sta registrando, oppure entrare nel rullino. Entriamo nel video che abbiamo registrato oggi in bici e vi faccio vedere come fare una semplicissima modifica che vi aiuterà tantissimo nel vostro editing del video. Con questa funzione qui, in questo video che ha filmato Fede seguendomi di corsa con la videocamera, con Deep Track selezioniamo il soggetto e lui inizierà automaticamente a seguire il soggetto, come vedete qui. Metterrà fisso il focus solamente su quel soggetto qui e in dieci secondi avrete questo video qui senza fare niente. Ha registrato? No. Giuro. Ma non ci credo. Veramente? In poche parole, questo oggettino qui è una gran bomba. Ho avuto modo di provarla per poco tempo, però siamo riusciti comunque a fare delle grandi inquadrature e dei gran contenuti, quindi è assolutamente consigliata. Spero nei prossimi video di poter capirla meglio e poter sfruttarla ancora di più. Per tutti quelli che sono interessati potete trovarla su GoBigShop, che vi lascio il link qui in descrizione, e inserire il codice sconto MattiaInsta360 per ottenere un ulteriore sconto sul prezzo finale. Per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Lasciate un like e un commento e iscrivetevi. E mi raccomando, se la prendete, taggatemi nelle story o nei post che voglio vedere cosa riuscite a fare. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!